Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, oggi 22 aprile del 2020. Guardate, alla fine forse, anzi non forse, sicuramente, vediamo qua se funziona il microfono, ha ragione mia moglie che mi dice, tra un po' questa zuppa non la fai più, nel senso che il mondo va da tutta un'altra parte, cioè ho come l'impressione, ma ve lo dico francamente, ho come l'impressione di essere, ma non sto piagnucolando, di essere uno di quelli, avete presente la barzelletta di quello che trova tutte le macchine che gli vengono contro in autostrada e dice, ma chi sono tutti questi cretini contromano? Mentre essere in contromano era lui. Ecco, io temo di essere in contromano, perché io leggo i giornali tutti i giorni, ieri mi scuso non ho fatto la zuppa, ho fatto tardi per una bellissima puntata, secondo me, di Quarta Repubblica, e ringrazio i milioni di persone che l'hanno vista, compresi, spero, molti di voi, beh, comunque ho l'impressione di essere contromano perché veramente o sono tutti impazziti o forse sto sbagliando io, cioè uno si deve porre questo problema, perché ragazzi, ma voi vi rendete conto qual è il clima dal quale partiamo? Cioè noi partiamo dal clima, l'ho detto lunedì con la metafora della rana bollita di Chomsky, noi siamo in una situazione per cui i giornali ci stanno raccontando che la nostra vita normale sarà fatta di guanterini, maschere, distanziamenti sociali, mancanza di ora di punta, incapacità di poter andare ai ristoranti, a fare gli acquisti, a prenderli aerei, cioè un mondo in cui ci saranno disuguaglianze mostruose tra chi può e chi non può, tra chi ha la possibilità di prendersi l'aereo privato, tra chi può pagare un biglietto dell'aereo due volte di più, chi può pagare un mondo fatto da milioni di disoccupati, ecco io non voglio vivere in un mondo di poveri, ve lo dico subito, perché puoi anche star bene, ma in un mondo di poveri tu vivi male, come disse Reagan, il modo migliore per combattere la povertà e non fa parte dei poveri, il modo migliore, poveri in senso di quello che avverrà tutti i miei amici, non i giornali di merda del giornale unico del virus, mentre abbiamo raccontato negli ultimi mesi i poveri immigrati, le scene strazianti, toc toc! Gli italiani stanno alla fame e non c'è un pezzo che sia uno sul giornale, non c'è la Caritas, non c'è Don Gelmini, non c'è Piripicchio, non c'è Emergency, non c'è l'ONG, ci sono italiani che non hanno i soldi per mangiare, che chiamano tutti e sui giornali c'è Conte e tutto va bene, c'è Alesina e Giavazzi, Alesina e Giavazzi oggi, che vivono in una specie di torre d'avorio, Alesina e Giavazzi vivono in una torre d'avorio a New York probabilmente, il che va benissimo, come sappiano io vorrei vivere a New York in questo momento, perché nonostante sia martoriata più di Milano, io so che l'America ce la farà, mentre noi purtroppo siamo da talmente coglioni che non ce la faremo, purtroppo non ce la faremo, perché siamo tutti quanti impauriti, tutti quanti impauriti da questo virus e non ci rendiamo conto che la vera paura che abbiamo oggi è che moriremo di fame, moriremo di fame se continuiamo a ragionare come ragiona Conte, come ragiona Arcuri, come ragiona la task force di Colau, come ragiona la Morgese, come ragionano questi folli che hanno ottenuto la decrescita felice, zitti e muti senza che nessun giornale faccia un reportage, uno, ve lo chiedo, ma perché non fanno i reportage sui poveri oggi? Perché non fanno i reportage sui vecchi che non riescono a mangiare? Perché non fanno i reportage sul disagio di vivere a casa, come direbbe Fuxas, su grandi case, ma purtroppo caro Fuxas l'abbiamo inferiore ai 60 metri quadri, non lo fanno oggi, non ci sono i reportage e non si va in giro a raccontare la povertà e questo lo dovremo fare prima o poi noi, ma ovviamente tutti noi siamo sotto il controllo del grande fratello Conte e del grande casalino che ci dica che tutto va bene, ho visto ieri un video che lui si faceva il jogging in giro per le strade e che non l'ho visto sui giornali oggi, non c'era sui giornali, lui che correva sulle strade perché lui può, io non posso, lui può, forse nel futuro potrò dal 4 maggio correre 40 minuti, ma comunque i giornali di oggi titolano mascherine fino al vaccino, sentite il minculpop del Corriere della Sera, che è il giornale unico delle televisioni, il giornale unico dei giornali, il minculpop, vi prego, l'unico posto secondo me in cui si può sentire qualche cosa che non sia diverso, a parte Quarta Repubblica, finché resisterà, è questo blog, finché poi mi andrà di farlo, perché poi quando ovviamente mi rompo le scatere e potrò riprendere a zappare, riprenderò a zappare. Bene, sono un po' sconfortato oggi, vi è chiaro, il partito, sentite bene, il Premier Conte, queste sono le prime cinque righe del Corriere della Sera, il Premier Conte durante l'informativa al Senato spiega e rilancia la fase 2, siete veramente senza faccia, senza faccia, voi ora che mi state ascoltando, vi prego, guardate Conte ieri in Parlamento, leggetevi tutti i giornali di oggi e spiegatemi che cazzo ha spiegato Conte, zero! Io non so se potrò uscire, non so se avrò bisogno dell'autorizzazione, non so se potrò andare in un'altra regione, non so se potrò vedere i miei cari, non so se potrò andare in un negozio, non so se potrò comprarmi un caffè, non so se potrò iniziare a lavorare, non so se potrò andare all'estero, non so se potrò andare a fare jogging, non so se potrò andare a giocare a bocce, non so nulla, ma il Corriere della Sera dice che ieri durante l'informativa Conte ha spiegato la fase 2 e l'ha rilanciata, ma questi sono veramente, vivono in un altro mondo i giornalisti, ma come si fa a dire una cosa di questo tipo sulla prima pagina del più importante giornale italiano e accanto chi c'hai? Alesina e Giavazzi, quelli che nella loro vita l'unico lavoro che hanno fatto è prendere i mezzi pubblici molto efficienti di Boston per andare nella loro università. Questo è stato il loro problema, o qualche cazzo di cocktail party con degli straordinari signori WASP americani che gli spiegavano dove andava la curva ISLM. Questo hanno fatto nella loro vita e oggi ci scrivono, Alesina e Giavazzi, avete mai lavorato in una fabbrica? Avete mai lavorato in un frantoio? Avete mai lavorato in una botta? Ma l'avete mai vista? A parte essere lì portati magari dal premier che vi ha fatto consulenti. Che cosa scrivono Alesina e Giavazzi oggi? Straordinari, ma voglio vedere, ve lo leggo. Serve liquidità? Beh, grazie. Penso che questo anche un professore riesce a capirlo, che serve liquidità. Serve liquidità? Una montagna? Ah, grazie, una montagna. Benissimo, affinché la decisione su quando ripartire serve la liquidità. Sentite, una montagna non perché serve alle imprese per campare, ma serve perché la decisione su quando ripartire la prendano medici e virologi, magari con qualche economista, ma non la prendano gli imprenditori. Ma questi sono, questi, questa è la nostra classe dirigente, la nostra classe intellettuale. Io vorrei, voglio giovani, professori universitari, giovani professionisti che a questi riprendano tutti a calci nel di dietro e gli dicono ragazzi avete fatto il vostro tempo, abbiamo, noi viviamo in un altro mondo in cui pensiamo che non ci sia la contrapposizione tra salute e impresa, ma che senza impresa non ci sia la salute. Perché oggi non è molto complicato, bisognerebbe leggere la prima pagina della Repubblica molto, molto, molto più sobria del Corriere della Sera, tu prendi il Corriere della Sera da una parte e dall'altra parte Repubblica fa una battaglia contro la Lombardia, Repubblica è un giornale di sinistra, Repubblica ce l'ha con Fontana, ma da sempre, Repubblica è giustizialista, perfetto, ma oggi ha il coraggio di scrivere in prima pagina sul suo giornale meno 15%, sapete cos'è meno 15%? lo spiega Repubblica, i dati ufficiali dei tecnici del bilancio della Camera del PIL perso nei primi sei mesi dell'anno. Capite cosa vuol dire 15%? 15% non è un numeretto, vuol dire che c'è gente che oggi non ha soldi per comprarsi il pasto, questo vuol dire 15%, perché come spiega benissimo Repubblica, e come invece il Corriere della Sera sta lì a fare una specie di soffietto gigantesco alla informativa di Conte, dove vi invito a sentirla, dove non spiega nulla, Repubblica oggi ci spiega non solo che il PIL è perso del 15%, ma che mancano entrate tributarie per 25 miliardi, toc toc, ma se mancano i soldi di entrate tributarie, la sanità come la paghiamo, l'assistenza come la paghiamo, i più deboli come li tuteliamo, la sicurezza e gli stipendi come li paghiamo, perché ora stanno col bel culetto al caldo i dipendenti pubblici, ma quando mancano gli introiti fiscali, il loro culetto al caldo diventa al fresco anche loro, non è che siamo tutti sicuri che funziona, ragazzi le aziende private licenzieranno, se noi pensiamo che in un bar non possano entrare 10 persone ma 5, diminuiremo del 50% i dipendenti dei bar, se noi facciamo entrare nei ristoranti un quarto degli avventori, perderemo sicuramente il 30% di quelli che ci lavorano, eh ma tu vuoi che tutti noi si muoia di virus? No, non è così, non è così, il rischio zero non esiste per nulla, nei ristoranti possiamo prenderci ogni giorno decine di malattie, ma questi pazzi non solo ritardano sentendo Alesina e Giavazzi, la ripresa delle aziende, perché dice un problema di liquidità, dovete dare liquidità con le... ma secondo voi un'azienda può stare ferma 2-3 mesi, Alesina e Giavazzi, ma avete mai lavorato in vita vostra? Tu, professore universitario che non vai per 3 mesi a fare lezione, ti tieni il posticino al caldo, il barista, il negoziante, l'artigiano, c'è Amazon che già gli ha fottuto il posto di lavoro, e questa è la differenza, io vorrei, sapete cosa vorrei? Che Alesina e Giavazzi gli facessero un mazzo così, delle belle università telematiche, io vorrei che Pegaso, Pegaso, bella università telematica, fottesse questi professori, vedete poi quanta strizza si prendono, dicendo, ma chiudete, date un po' di liquidità, se qualcuno ti può fottere il posto di lavoro, no? Invece loro che cavolo gliene frega, ma questo è il principio, 2,9 milioni in cassa integrazione ordinaria, 3 milioni in cassa integrazione in deroga, non hanno ricevuto un euro, e questo lo dice Repubblica di oggi, sono i numeri di Repubblica, e secondo voi una famiglia che gli dicono, sì sì tu c'è la cassa integrazione, ma non ancora integrazione, ma non ha ancora i soldi sul conto, ma secondo voi la spesa la fa, con la richiesta fatta alla Regione, con un bollo da 16 euro, per ottenere la cassa integrazione, questo il Corriere della Sera non se lo chiede, Repubblica grazie al cielo se lo chiede, nel frattempo, mentre ci sono tutte queste robe qua, il mondo politico, anche la destra, si divide sul MES, perché il MES è una cosa che Conte dice, tra l'altro Conte facendo una giravolta straordinaria, perché fa una conferenza stampa, in cui dice che non l'adotta, poi ieri fa l'informativa alle camere, informativa alle camere, perché il voto alle camere ce n'è stato uno solo, e poi si dà un po' di informativa per far vedere che funzionano, informativa alle camere, in cui dice che il MES si può usare, sentite, rifiutarlo ora è un torto a chi vuole usarlo, però dall'Italia all'Italia serve altro, cioè fino all'altro giorno aveva detto, in conferenza stampa, in televisione, che non lo prendeva, e insultava Salvini e Meloni, perché lo accusavano di prenderlo, e oggi dice, rifiutarlo ora è un torto, ma ragazzi, vale tutto, vale tutto il contrario di tutto, c'è ragione Panarari, che ieri, in un pezzo straordinario, sulla stampa, dice che questo qua è Amleto, Conte Amleto, essere o non essere, riaprire o non riaprire, messo o non messe, tanto noi non ci capiamo nulla, Cappellini lo pizzica, è spesso ospito a Quarta Repubblica, è stato molto anche coraggioso, perché è la libertà di un giornale, si vede anche dai suoi editorialisti, come Cappellini, che nonostante il giornale non sia esattamente uno dei giornali anti-Conte, Repubblica scrive, ha fatto capire, dice Cappellini, che voteremo sì al MES, prima parlava Conte di trappola e stigma, poi non è cambiato nulla, e oggi dice che lo dobbiamo prendere, cioè Cappellini, diciamo sostanzialmente, inchioda le sue contraddizioni Conte, difficile aspettarsi un futuro radioso, per un governo che pensa di andare avanti, così, quattro righe di Cappellini su Repubblica, pagina 8, non sono il fondo, ma sono il senso che un giornale normale può andare avanti e indietro sul MES di Conte, difficile aspettarsi un futuro radioso, per un governo che pensa di andare avanti così, nessuno avrebbe potuto scrivere meglio, che queste quattro righe di Cappellini, sull'incongruenza di Conte, nel frattempo, nel casino economico che ci siamo, poi in sostanza questo MES, parliamoci chiaro, è una cosa orrenda come era stata costruita, l'hanno trattata per cambiarla, ti do 30 miliardi per rimettere a posto la salute e la sanità, e tu non hai nessuna condizione, come scrive Cottarelli oggi, ma serve a poco, cioè serve a qualcosa, ma dice Cottarelli servirebbero 500 miliardi, quindi sostanzialmente è diventata una questione di principio, ma quello che mi fa impazzire, è che Salvini e Meloni, che sono sempre stortate contrarie al MES, ed evidentemente qualche ragione ce l'avevano, se oggi tutti quanti si domandano che un MES con condizioni non ci piace, ma oggi che le condizioni le hanno tolte, probabilmente potrebbero passare un po' più del loro tempo a fare polemiche su una fase 2 che non riparte, su un Conte che non sta facendo assolutamente nulla, se non task force inutili, sulla chiusura di regioni al sud, a parte quel De Luca là che vuol fare lo sceriffetto, che dice che non arrivano dal nord, e io voglio chiedere, toc toc, senti De Luca, ma a Capri, ma ci vai tu con i soldi pagati dei contribuenti? Toc toc, De Luca, scusami, ma tu a Ischia, ci vai tu a farti bagno bello pulito, con i tuoi amichetti che gli paghi con i soldi dei contribuenti? Toc toc, De Luca, a Pompei, te lo riserviamo soltanto per te, no? Eh De Luca, sei così contento caro De Luca, che fai tanto lo sceriffetto e il fenomeno, che mandi a fanculo tutti, e poi dici delle minchiate incredibili, come chiudere i confini della Campania, 600 mila persone, il Corriere del Mezzogiorno segnala di turisti in meno in Campania, poi dopo De Luca che ha pagato mille euro in più ai professionisti, quei mille euro, chi te li dà De Luca? La Lombardia o te li generi tu chiudendo la Campania? Ma questa è la demagogia di De Luca, che sembrava una specie di fenomeno solo perché fa il fenomeno, insomma è imbarazzante, ma comunque tenetevi De Luca che vi sta bene, nel senso che vi sta bene per chi lo vota, perché piace a tutti quanti, anche a me piace moltissimo, perché De Luca è un cabarettista, però io lo vorrei a Mediaset, io vorrei De Luca che avesse un programma a Mediaset, poi magari la cosa pubblica facciamola gestire a qualcun altro, perché Salerno pare che l'abbia gestita bene, però adesso quando sento questa testa che ha perso De Luca, dico beh, sembra quasi il governo Conte, tutto annunci, decreto 50 miliardi, e tutti i giornali oggi ci credono, ma io chiedo ai giornali, quando il decreto 50 miliardi viene annunciato e non arriva un euro, dei 25 miliardi fatti quattro mesi fa, ma ci vogliamo fare qualche domanda, oggi il sole 24 ore racconta la difficoltà di rigenerare la liquidità dei 25 mila euro e la liquidità per le imprese, che erano il corpo del vecchio decreto, sono arrivati 600 euro? Sì, in gran parte, non a tutti, ma ci possono essere tanti errori, Italia oggi diceva che c'erano anche degli errori sugli IBAN forniti, ma ha ragione Ambrosetti, che oggi sul giornale scrive una cosa semplicissima, le imprese non hanno bisogno, a differenza di Giavazzi, Alesina, Conte, e questi fenomeni della liquidità, perché se fatturano zero della liquidità saldano in faccia dei debiti, vi è chiaro? I debiti per le aziende, se non fatturano, non hanno prospettiva di fatturare, o hanno prospettiva di riaprire monchi, hanno possibilità di avere liquidità zero, se io devo morire fra sei mesi, mi indebito pure con lo Stato? Sono scemo, mi indebito, se so che non li restituisco, sono un farabutto, ma una persona normale chiude, ed è quello che questi deficienti, se continuiamo a fare tutta questa roba qua, permetteranno le imprese italiane, ma voi siete tutti col culetto a caldo, quelli che mi dicono, no Nicola, il virus, eccetera, poi dopo fra sei mesi ne parliamo, come ne parlavamo fra un mese, un mese e mezzo fa, quando vi dicevo che l'economia era il malato che dovevamo affrontare insieme ai morti, di grande spessore per noi emotivo che ci sono in molte parti dell'Italia, ma è ovvio che non puoi non pensare ai morti, ma è ovvio che non puoi neanche non pensare alla ripresa, però noi pensiamo ad Arcuri, Arcuri oggi è, guardate, io non so, io non lo so, io veramente non lo so, perché poi Conte ha un'area garbata, è una persona per bene, secondo me è anche molto educato, ma il problema è che veramente non ne ha azzeccata una, Colau, l'altra task force, è una persona per benissimo, e sicuramente è stato un buon manager, gli metti 17 persone vicino e oggi sembra che abbiano prodotto un documento in cui dicono si deve riprendere la scuola, ma dopo a settembre e ci deve pensare la pubblica amministrazione, l'applicazione che avete fatto può essere giusta, ma ci deve essere il Ministero dell'Innovazione che se ne occupi, e poi l'altra cosa che dice, bisogna riprendere le attività meno rischiose, così come dicono le tabelle dell'Inei, e noi abbiamo preso Colau per fare sta cazzata, no, io ve lo chiedo, noi abbiamo preso Colau per dire queste banalità, beh, insomma, se questo è quello che abbiamo fatto, pagavamo 50.000 euro un ragazzino della McKinsey o della Boston Consulting o di Bain e Cuneo, 50.000 euro avremmo pagato, avrebbe fatto un documento anche un po' più efficace, nel frattempo ritorniamo ad Arcuri, perché Arcuri, come tutti quelli che ogni tanto vanno in televisione, i virologi, si sente un virologo, Arcuri si sente un virologo, nel senso che il virologo è per noi il sinonimo di chi ha completamente si è montato la testa e fa un mestiere che non dovrebbe fare, cioè la subrette televisiva, cioè Arcuri vorrebbe scalzare la leadership di Burioni, sono lì che se la battono e quindi come Burioni dice tutto il contrario di tutto e parla di cose di cui non dovrebbe parlare, invece di occuparsi delle mascherine, perché detto che sarebbero arrivate le mascherine, oggi chi è che lo dice? Oggi è stupendo, perché il tema delle mascherine ha lasciato il passo, sono tre righe del Corriere della Sera che ha detto Arcuri. Allora, toc toc, Arcuri, ma vai per favore a vedere un po' in giro come funzionano le cose, hai provato ad andare in Dombordia? Hai provato ad andare in Veneto? Hai provato ad andare in una farmacia del Lazio? E tu dici che il problema delle mascherine è stato lasciato il passo, ma dove vivi? In un paese normale, se un commissario si permette a dire una stupilaggine di questo tipo, lo prendono per la collottola qua, quelli che l'hanno nominato, dicono Arcuri, vai, 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 troviamone un altro. Invece noi Arcuri siamo là che pontifica e sapete cosa dice Arcuri? Stupendo, che chi non scarica l'applicazione Immuni ovviamente deve rimanere agli arresti domiciliari. Cioè ha fatto poi questo paragone, sei libero di non scaricartela, però se non te la scarichi deve stare agli arresti domiciliari. Può anche essere ragionevole quello che dice Arcuri, se non altro non è quello che prevede la legge. E poi Arcuri, fino a prova contraria, non è stato votato dagli italiani, non è un legislatore, non è neanche un membro del governo. Arcuri, ma fatti gli affari tuoi, ma pensa alle mascherine, se ci riesci, che mi sembra che non ci sta riuscendo. Invece ci spiega che chi non usa l'applicazione deve subire il lockdown. Ovviamente hanno fatto un mazzo così a Conte e Conte ha detto che ovviamente non verrà discriminato chi non usa la mascherina. Anche perché, fino a prova contraria, vorrei spiegarvi una cosa che forse a molti di voi non è chiara. Ci vuole una legge per limitare le nostre libertà e anche se ci fosse una legge per limitare le nostre libertà, ci sono degli articoli della Costituzione che prevedono che una legge ordinaria non possa limitare la nostra libertà. Motivo per il quale questo governo l'ha limitata con un DPCM che non è neanche una legge. Le leottizzazioni, la bocca della pubblica amministrazione nel frattempo è un altro di quei danni di cui nessuno se ne rende conto. Cioè il Sole 24 Ore dice che i comuni e i regioni non stanno autorizzando nulla insieme allo Stato, quindi sono bloccati tutti quanti i lavori. Ma oggi vedo, sul decreto da 50 miliardi, che il Sole 24 Ore mi dice che è una delle ipotesi che restituiscono i crediti della pubblica amministrazione. Cioè da una parte la pubblica amministrazione è ferma e noi paghiamo senza cassa integrazione e dall'altra loro ci restituirebbero i crediti. Andatevi a fidare. Nel frattempo sono stati velocissimi Arcuri, Conte, Patuanelli, Zingaretti, tutti quanti fantastici nelle lottizzazioni. Cioè hanno rinominato tutti quanti i vertici delle grandi aziende di Stato. L'unica cosa che io devo dire con grande franchezza aver confermato quelli del passato, soprattutto in Eni, Enel e Finmecca, è la cosa fondamentale che dimostra sia hanno lottizzato ma molto meno di quanto abbiano lottizzato tutti gli altri del passato. Quindi non facciamo i moralisti contro questo governo perché meno lottizzato di così non si poteva. Chiaro? Perché tu devi poter uccidere da un punto di vista dialettico questo governo sulle cose su cui non funziona. Ma adesso che ci si sconvolga che questo governo Mieli questi hanno proceduto alle lottizzazioni perché non hanno nominato gli amichetti tuoi nel senso che hanno mantenuto quelli che c'erano prima. Adesso attaccare questo governo per le lottizzazioni è una cosa scandalosa. Così come difendere Conte sulla sua incapacità di andare alla fase 2. Vanno nel stesso piano. Cioè non ci può essere un po' di onestà intellettuale nel dire che questo governo ha lottizzato il minimo indispensabile perché scadevano e perché voleva cambiare. Travaglio si è messa la sua amichetta alla presidenza Lenin e chi se ne fega prima le nominavano gli amichetti di Mieli ma a me non mi sembra che l'uno sia peggio dell'altro. L'altra cosa che il fatto quotidiano è arrabbiato perché hanno nominato di nuovo l'amministratore del Gato è dell'Eni Descalzi. Vi segnalo che il petrolio oggi è sceso a 9 dollari. Ieri il future sul petrolio è sceso sotto zero. Cioè se io avevo del petrolio e lo volevo vendere dovevo pagare chi mi comprava il petrolio. C'è un articolo fantastico su Wall Street Journal. In un momento in cui il petrolio è sotto zero in un momento in cui il petrolio è sotto zero va bene? Noi stiamo qua che vogliamo cambiare l'amministratore delegato dell'Eni che si occupa di petrolio e che se ci metti lì qualcuno per i prossimi due anni non sa neanche la strada per arrivare al piano di Descalzi. Ma dai! Vabbè comunque sia nel frattempo il fatto oggi racconta tutti quanti quegli incontri segreti che non sono segreti anzi non dice segreti pubblici tra Casaleggio e Descalzi. Amministratore delegato dell'Eni e Casaleggio si sarebbero visti alla presentazione di un super computer e si chiede Carlo Tecce ma perché ci è andato Descalzi a quella presentazione visto che c'è tante altre cose da fare casualmente presentazione in cui c'era anche Casaleggio Junior. Io non lo so perché ci sia andato so soltanto che il motivo politico per il quale finalmente ci si prege il giornale il fatto se la prende con Casaleggio vi fa capire perfettamente una geografia. Fatto quotidiano vuol dire Casalino vuol dire Conte quella filiera lì dopo che hanno abbondanato Di Maio stanno su Conte Casalino il nuovo partito del fatto quotidiano come ce l'aveva la Repubblica non è che si candidano anche se Scalfari si candidò il partito del fatto di Conte di Casalino beati voi e dall'altra Casaleggio è fuori dai giochi Casaleggio di Battista è quella parte lì che vi può piacere o non piacere è fuori dai giochi e lo capisci bene vedendo gli attacchi del fatto quotidiano io direi che per oggi è tutto ho parlato anche troppo vi segnalo il sito nicolaporro.it ma in Italia ci sono tasse del 18 da pagare sui carburanti nel frattempo vi segnalo che ci sono 23 miliardi di euro in meno di ricevute fiscali e questo vuol dire che i vostri stipendi cari dipendenti pubblici cari medici di cui stiamo parlando ora se non riprendete l'attività economica mi dovete spiegare chi li paga ciao